Per amministrare un paese servono le competenze giuste, ma soprattutto servono cura, attenzione, amore. Dopo anni di superficialità e di cattiva gestione, ci siamo ritrovati un paese logoro, un paese abbandonato a se stesso, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo necessariamente invertire la ruta, restituire all'acqua meno la dignità che merita. Vogliamo più sicurezza, vogliamo più decoro, più vivibilità. Vogliamo un paese a misura di bambini, di famiglie, di anziani. Vogliamo un paese dove nessuno venga lasciato indietro. Insieme possiamo riuscirci. Grazie per la visione.